Dopo l'annuncio lo scorso dicembre dell'assegnazione all'Italia, la Ryder Cup è sbarcata a Roma. L'evento a squadre che vede opposta Europa e Stati Uniti verrà ospitata nel 2022 dal Marco Simone Golf & Country Club, a dare il benvenuto alla padrona di casa Lavinia Biagiotti. È una grande emozione ricevere questo trofeo così amato, così sognato da generazione di appassionati di sport. È stato straordinario poterlo attrarre in Italia facendo un lavoro incredibile con il governo, con il CONI e con la Federazione Italiana Golf. Dopo un tour simbolico immattinata nella città eterna su un bus scoperto accompagnata da 50 golfisti under 12, la Ryder Cup, la terza competizione sportiva più importante al mondo, è arrivata al Marco Simone, dove le leggende del golf, Rocca e Torrens l'hanno omaggiata con un match play su nove buche. Giocarla forse senti meno l'emozione dentro il campo che fuori, forse quando ci sarà qua nel 2022 l'emozione sarà ancora più grande, perché stando fuori, vedendo queste due squadre fortissime che si combattono in tre giorni, questo bellissimo trofeo è sempre un grande onore e un piacere. L'arrivo del trofeo è stato festeggiato nell'anfiteatro della Clubhouse, con una cerimonia in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto della FederGolf e BMW Roma. Il ricavato della giornata è stato devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso agosto. Dopo la tappa romana, la Coppa ha raggiunto il Golf Club Milano in occasione del 73esimo Open d'Italia. La Coppa ha raggiunto il Golf Club Milano in occasione del Golf Club Milano in occasione del Golf Club Milano.